E ha focalizzato anche le ancore che questa nave ha buttato e che non si riescono a tirare su, l'ancora per esempio della inefficienza della giustizia, no? Siamo molto concentrati sulla giustizia civile, vogliamo che i processi che prima duravano 3-4 volte, quello che durano in Francia e Germania, i processi civili, oggi si possono concludere in un anno.